Ciao a tutti, siamo Greta Fornaro, Enrica Salvarani e Di Natalia Mini e lavoriamo in un centro benessere situato a Reggio Emilia, si chiama Centro Benessere Tao. Abbiamo appena partecipato al corso dello Slender Massage tenuto da Stefano De Michino. Consigliamo a tutti questo tipo di corso perché ci ha dato la possibilità di ampliare le nostre conoscenze teoriche e manuali. Ciao a tutti! Ciao!